E' il trionfo comunque di una filosofia di sport, di calcio, palla a terra, piedi buoni invece che il calcio dei giganti, tutto muscolare? Sicuramente loro esprimono veramente il miglior calcio al mondo, giocando palla a terra, partendo anche da dietro, perché anche i difensori di Barcellona sono a livello tecnico fortissimo. E' vero anche che poi la cantera ha prodotto Puyol, ha prodotto Piquet, ha prodotto Busquets, ha prodotto anche dei giocatori di fisico e di struttura, però sempre tutt'altro di piedi che Piquet è un difensore che non esiste a livello di lancio, a livello di tecnica individuale, il gol che fa con l'Inter l'anno scorso sui finali Champions League è una roba che, ecco, berbato, gli attaccanti possono fare, però faccia entrare il difensore. Sì, però il concetto è che appunto Giaccherini starebbe talmente bene nel sistema Barcellona che addirittura abbiamo un'immagine esclusiva, così puoi dire tu se un giorno, guarda, a colloquio con Messi, ma che brutto fatto a montaggio. Tra l'altro con la faccia da capitano del Barça, quindi già esuprati i gradi di ciali tutti i dati. Dai, sono lì posso esserci. Cioè tu laceresti il Cesena soltanto per il Barcellona e per l'Inter. Per l'Arsa e l'Inter. Era il Madrid. Era il Madrid. No, ma come, il Barcellona, sei più forte, ma è il Madrid. L'unica maglia bianca che indossa è quella del Cesena. Sì, sì. No, allora ti facciamo vedere il Madrid, così giudichi se ti piace davvero il Santiago Bernabeu e magari il calcio di Mourinho non è quello che qui si addice alle due caratteristiche, ma il Real gioca male, vince soffrendo col Mallorca 1-0, Mallorca che prende un palo abbastanza clamoroso. Con il giocatore che lui non farebbe giocare, peraltro. Benzema. Com'era la battuta, gatto, cane. Benzema lo trattano come l'ultimo dei fessi, ma il Madrid invece è sempre decisivo. Quando entra, con l'Almeria ha fatto l'assist, l'altro giorno ha fatto il gol. Che ne pensi di Giuseppe Rossi che travolge la realza a Sidat, che era passata in vantaggio con Aramburu? Ma Giuseppe è un giocatore, anche lui, non di fattura...